Ciao, sono Alessandro e da più di dieci anni aiuto la gente a disegnare e dipingere meglio. Vuoi migliorare e crescere nel disegno e nella pittura e questa è già la prova che sei sulla strada giusta. È un grande passo e spero che potremo fare un pezzo di strada insieme. Non importa da dove partiremo insieme, troveremo gli esercizi giusti perché tu possa raggiungere i tuoi obiettivi. Per esperienza so che ciascuno di noi è diverso e quindi ha bisogno di trovare un suo percorso. Comunque nel disegno e nella pittura ci sono dei principi che sono sempre gli stessi e non si possono ignorare, anche se ciascuno deve scoprirli a modo suo. È per questo che svilupperemo un percorso pratico che ti proporrà solo le lezioni che ti servono. In pratica riceverai solo le lezioni giuste per te. Se serve imparerai le basi del disegno, poi svilupperemo varie tecniche pittoriche o di illustrazione. Ciascuna delle lezioni che riceverai comprende informazioni e lezioni proposte con dispense e se serve filmati. Man mano che farai gli esercizi potrai inviarmeli in modo da ricevere commenti o correzioni da parte mia. Alla fine di ogni lezione ci incontreremo in videoconferenza per fare il punto su quello che hai imparato e per progettare insieme i passi successivi. Nella descrizione qui sotto trovi tutte le informazioni. A presto!